Buona nuova esperienza. Bella, Sanremo, perché tu le piace molto cantare. Sì, e lì ho conosciuto molta gente del mondo dello spettacolo e sono tornata a casa con molte emozioni nuove. Poi a Sanremo sei stata? Sì. All'Ariston, bellissima. Anche se non ho avuto la possibilità di cantare all'interno. Piano piano, piano piano. Ve l'ho visto. Abbiamo le zampe anche lì. E' stata un'esperienza veramente bella e molto emozionante. Ti piace partecipare a Tu si che vali su TRSP, questo talent show all'italiana che conduco io, Salvatore Marino. Ci hai mandato un video che a noi è piaciuto molto, ci hai emozionato, molto romantico. Mi ricordi il brano qual era? La nozze di Alisa. Ah, di Alisa, bravo. Che è una canzone che la Alisa aveva portato anche lei, anche a Sanremo, che aveva anche vinto. Molto bello, sì. E' stata la prima canzone che ho cantato nel mio percorso artistico del canto. Che manderemo in onda. Quindi adesso volevamo conoscere bene te e adesso poi ti facciamo un'intervista. Grazie. Grazie. Grazie.